Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmi che sono qui a portarvi il probabile ultimo episodio dei Potential Upgrade di gennaio. Vabbè, si chiamano di gennaio ma in realtà siamo quasi alla metà di febbraio. Perché potrebbero uscire da un momento all'altro da quello che si è capito, non so, dalle varie news su Futed o dai vari video di youtuber inglesi. Per esempio quello di Bateson che ha fatto un video molto interessante parlando un po' dei probabili upgrade. Alla fine di questo video troverete una lista con tutti i giocatori che potrebbero, che dovrebbero ricevere un upgrade a breve. E quindi dopo li analizzeremo insieme. In questo episodio vi mostrerò i primi tre, diciamo, quelli che più mi ispirano a dire la verità come giocatori. Il primo che troviamo è senza dubbio Diego Costa che sta avendo finora una stagione esaltantissima con il Chelsea dopo il trasferimento dall'Atletico. Ovviamente aveva fatto stra bene all'Atletico. Sta facendo molto molto bene da quando è arrivato nella squadra di Murigno. In questo momento vabbè è squalificato per qualcosa, quindi non sta giocando, però comunque sia lui e Fabregas fanno veramente una coppia formidabile. Perciò potrebbe ricevere un upgrade e basandomi sull'upgrade che ha avuto su FIFA, diciamo, testa a testa e un po' dai video, Diego Costa diventerebbe così con un più tre di overall. Queste sono le statistiche che gli ha dato Bateson perché non avevo voglia di calcolarle tutte, quindi ho fatto più in fretta. che sarebbe un upgrade veramente della Madonna perché ha minimo più tre in ogni statistica, più tre in overall, più tre in velocità, più otto in tiro, più nove in passaggio. Forse ecco queste statistiche sono un po' esagerate, magari saranno un po' diciamo più basse perché sarebbe comunque devastante una carta del genere. Però non si sa mai, potrebbe uscire e noi lo accetteremo volentieri, ovviamente il giocatore in questione upgradeato costerà un fottio, una Madonna, quindi sarà ovviamente proibitivissimo soprattutto all'inizio il suo prezzo. Ovviamente quando usciranno i transfer come, scusate, gli upgrade come quando escono i transfer i giocatori costeranno tantissimo, quindi non conviene prenderli e se li trovate nei pacchetti vendeteli subito. Quindi, vabbè, abbiamo visto questo Diego Costa che fa veramente paura. Andiamo a vedere il secondo giocatore, stiamo parlando di Vietto, un altro giocatore che verrà upgradato, penso, da Argento a Oro. Questa sarebbe la sua carta upgrade che sarebbe molto molto buona, interessante da provare. Già Vietto, Silver, è veramente devastante e comunque sta avendo un'ottima stagione al Villarreal. E questa carta Oro che potrebbe uscirne mi piace davvero tanto, mi ispira molto. Anche perché l'aumento, per esempio, in velocità di tiro non è altissimo, però per esempio in passaggio, un più 6 di passaggio per un attaccante è veramente tanto, anche quel più 6 di dribbling è veramente molto alto, forse è un po' esagerato, però vabbè. In ogni caso è un giocatore che è necessario provare, anche perché penso che non costerà molto nel caso uscirà. L'ultimo giocatore di cui parliamo è Sergio Aguero che sta disputando una buona, un'ottima stagione con il City e quindi potrebbe ricevere, come tanti giocatori, la sua versione upgrade di più 1, un più 1 comunque molto buono, nel senso che ha delle statistiche veramente impressionanti, la sua versione upgrade avrebbe delle statistiche davvero impressionanti con quel doppio 90 in tiro e dribbling che fa veramente paura, ovviamente anche la velocità e il passaggio per essere un attaccante, ma anche il buon fisico, comunque per un giocatore della sua stazza, è decisamente molto buono, quindi la carta avrebbe a costare tonnellate di crediti. Quindi dicevo, adesso vediamo la lista dei giocatori che in testa a testa hanno ricevuto upgrade e che potrebbero ovviamente, non tutti, ecco, però ricevere versioni upgrade anche in Ultimate Team. Sono divise per numero di, diciamo, per aumento di overall, più 1 li trovate più in basso, i più 2 in mezzo e i più 3 o più sono quelli sopra, ovviamente sono tutti giocatori rossi, iscritti in rosso, vediamo per esempio Harry Kane che ha un più 8 di overall in testa a testa, di bala più 7, comunque delle statistiche davvero molto, cioè delle statistiche degli overall davvero molto alti, degli aumenti sostanziosi, mi verrebbe da sottolineare per esempio giocatori interessanti come Guerrero dell'Orient che riceve un più 4, ottimo giocatore, mentre tra i più 2, per esempio Abate che da argento passerebbe a oro, il che lo renderebbe molto meno costoso, De Bruyne più 2, Nainggolan più 2, poi vabbè, De Gea più 2, Dembabà eccetera eccetera, Abrahimi, mentre tra i più 1 abbiamo Enner Valencia, Manet, comunque Nani, giocatori importanti, Hart, Andanovic, Sanchez, Diego Alves, comunque li basta che fate stop e li leggete tutti, se no al massimo vi lascio il link in descrizione, spero di ricordarmi, comunque anche Pogba 84, Bonucci più 1 eccetera eccetera, quindi questo potrebbe essere l'ultimo episodio, dipende ovviamente poi quando usciranno effettivamente gli upgrades, da venerdì in poi, quindi potrebbero uscire oggi come potrebbero uscire tra due settimane, come potrebbero uscire a marzo, non si sa, fatemi sapere nei commenti se voi sapete qualcosa in più di questi upgrade, se sapete più o meno quando usciranno, e niente, la serie potrebbe essere finita qui, quindi come al solito vi invito a lasciare un bel like, 400 mi piace uscirà un nuovo video, ho già in mente una nuova serie, quindi state connessi, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate in descrizione, probabilmente ci vedremo, non so se quest'estate parlando degli upgrade di FIFA 16, cioè dei giocatori, delle statistiche di FIFA 16, o addirittura l'anno prossimo per gli upgrade invernali di FIFA 16, quindi restate connessi, iscrivetevi al canale, Facebook, Twitter, Instagram, tutto in descrizione, ci vediamo al prossimo video, bella raga!